Buonasera, io vi voglio dire una cosa, che voi che vi prendete tutta questa confidenza con me e la mia famiglia, che io a voi non mi conosco proprio, nemmeno così, non mi conosco, quello che voi mi dicete su Instagram, ciao, tutto bene, io vi rispondo sempre, e ve lo avete, e quindi non è che voi, oppure alcune di loro sono delle mie fan e tengono il mio numero, o fanno maschi, facciano il mio numero, e voi cosa fate di me, lo fate questo o meno, che io non mi conosco poi, che vi prendessero quella confidenza, che ti dè, vi faccio dichiare, ti faccio, ti dico, e io devo rispondere così, e puntini, puntini, non posso mai dire, e l'ho mandata, l'ho mandata a quel paese, e lei che si tiene troppa confidenza con me, che non conosce, mi conosce, mi conosce un po', un po', ma non tanto con me, come loro, che attuano, che ho involtato, dove agilizzare, quando io vado agilizzare, loro li vedo sempre, e non è così, no, voi non mi conoscete proprio, quindi io mi sono arrabbiata, e ho deciso di fare questo video proprio per questo fatto, io a voi non mi voglio conoscere, siamo dei, possiamo essere amici, amici, aminte, quindi più di questo, non possiamo essere niente, o tipo, mi penso che vieno a fare una festa, una sorpresa, ma dopo di questo no, dopo di questo no, dopo di questo che fate, niente proprio, per me, io per voi, anche che non, non ce la faccio, ho la febbre alta, mi metto per un video, no, voi non ce la fate nemmeno a guardare il mio viso, e ho avuto tante, cose brutte, mi hanno mandato su Instagram, e ho detto male, no male, in senso che, di una ragazza, piccola, tipo, ho visto le foto su, è piccola, non è grande, e si ha preso la confidenza, e questo è, raga, io vi dico una cosa, non ho molto molto confidenza con le persone che non conoscete, la conoscete solo dentro a un telefonino, vederla, è una cosa che facciamo, e questo voglio capire, questo voglio capire, questo voglio capire, come se volete, se volete un video, che voi, i miei follower di Instagram, controlli la mia vita per e le 24 ore, e le 24 ore, e se mi andate a seguire su Instagram, un po' a sotto, mettete un mi piace, aspetetevi, e aspetetevi, mettete un commento, poi andate a seguire, anche il mio se lo volete mettete più presto i commenti se lo vediamo più velocemente così o domenica farò questo video un bacione buona serata a tutti e buonanotte